Due uomini Il Teotimo, San Francesco di Sal Ecco Teotimo, in ciascuno di noi rappresentati due uomini e perciò due vite. Una dell'uomo vecchio è vita vecchia, simile a quella dell'Aquila, di cui si dice che invecchiata va trascenando le piume senza poter più spiccare il volo e l'altra dell'uomo nuovo è vita nuova, simile pure a quella dell'Aquila, che alleggeritasi delle vecchie penne scotendole nel mare e ringiovanita, vola con forze nuove. Perché? Commento Nel corso della stessa vita, a prescindere dall'età, l'uomo nuovo si sostituisce all'uomo vecchio grazie alla maggiore evoluzione acquisita.